Buongiorno a tutti sono Jacopo Zonzini e sono qui per raccontarvi una vera e propria rivoluzione di Domino Automatic. Questo modello rappresenta infatti il punto di riferimento mondiale nei saliscale per trasporto pesante ed è apprezzato in tantissimi paesi nel mondo. Se utilizzato correttamente non comporta rischi particolari per l'operatore, tuttavia sull'ultimo gradino della scala sono necessarie più attenzione e dimestichezza. Solo noi che abbiamo inventato Domino Automatic potevamo renderlo ancora più semplice per garantire facilità d'uso anche i meno esperti. È nato così Domino Plasmoid con stabilizzazione incorporata. Quest'ultimo modello, grazie a un nuovo braccio stabilizzante che aumenta la sicurezza sull'ultimo gradino sia in salita che in discesa, è utilizzabile davvero da tutti, anche da chi è meno abituato all'utilizzo di strumenti professionali. È questa la vera e propria innovazione. A fine scala, sull'ultimo gradino, all'operatore basta schiacciare il pussante per far uscire la stabilizzazione, la quale è dotata di sensori che rilevano il piano e bloccano e riattivano automaticamente il moto della stabilizzazione. Cosa rimane da fare all'operatore? Praticamente nulla se non attivare la stabilizzazione nel momento opportuno, ovvero dove sono posizionati i marcatori laterali sul dispositivo e indittraggiare con il joystick fino all'interno del pianerottolo. Ma il braccio stabilizzante non è l'unica novità. Domino Plasmoid dispone della calibrazione del carico, ovvero un software evolutissimo che riconosce il peso e la forma del carico trasportato, calcolando così l'angolo di inclinazione ottimale per rendere la percorrenza sulla scala semplicissima. Inoltre, rispetto al modello precedente, la nuova generazione di Domino Plasmoid ha i cingoli maggiorati per avere maggiore grip nelle situazioni in cui è richiesto e per resistere ancora più a lungo su superficie esterna. La speciale trazione permette a Domino Plasmoid di percorrere qualunque tipo di superficie interna o esterna e di affrontare ogni tipo di scala, inclusi quelli liquidali o gradini a piede d'oca. Domino Plasmoid con stabilizzazione. Ancora più affidabile, ancora più sicuro, ancora più semplice.